Benvenuti in questa terza video guida dedicata ai software da utilizzare durante la fase di post produzione oggi nello specifico andremo a parlare di focus stacking focus stacking è quella tecnica fotografica che permette attraverso la realizzazione di diversi scatti con la medesima inquadratura ma con punti di messa a fuoco differenti di avere un'immagine completamente a fuoco partendo dalla margine inferiore della fotografia quindi la parte più vicina al nostro obiettivo fino ad arrivare al background questa tecnica risulta essere particolarmente utile per ad esempio fotografie di paesaggio dove nel nostro foreground c'è un soggetto particolarmente interessante che deve essere assolutamente completamente a fuoco senza andare a perdere il punto di messa a fuoco anche sulla scena del nostro background oppure se siete interessati e appassionati di macro fotografia per quanto riguarda la fotografia macro di insetti oppure di piante dove ovviamente l'importante è avere il soggetto tutto completamente a fuoco ora vi chiederete come mai c'è necessità di utilizzare un software apposito per fare questo quando la tecnica di focus stacking potrebbe essere utilizzata e applicata anche all'interno di photoshop anche in questo caso la risposta è abbastanza semplice nel senso che effettivamente con photoshop è possibile realizzare la tecnica di focus stacking attraverso un sistema di maschere e di blending ovviamente il risultato che sarete in grado di ottenere dipende dalla vostra capacità di padroneggiare questa tecnica e quindi se le vostre capacità o la vostra pazienza non è tale da realizzare un processo di blending e di mascheramento perfetto il risultato che sarete in grado di ottenere non sarà ovviamente il massimo inoltre dipende anche dalla tipologia di foto che voi avete da fare se l'immagine che voi avete inquadrato è abbastanza semplice allora anche la fase di mascheramento e di blending potrà essere semplice ma nel momento in cui vi troverete di fronte a situazioni o paesaggi o comunque scene complesse con magari rami che si intrecciano o soggetti che si sovrappongono tra di loro ovviamente la situazione potrebbe diventare molto più complicata e in questo caso appunto viene in nostro aiuto un software che si chiama Helicon Focus prodotto da Heliconsoft avete la possibilità di provarlo gratuitamente per 30 giorni dopodiché è necessario acquistare una licenza queste sono le varie tipologie di licenza e i relativi costi si può avere una licenza annuale oppure una lifetime license e come potete vedere avete tre tipologie di prodotto Focus Lite, Focus Pro e Focus Premium le differenze le potete vedere qui nel pacchetti Premium e Pro troverete delle funzionalità avanzate come ad esempio l'Helicon Remote che è un software che gira su computer tramite il quale voi potete agire sulla vostra fotocamera e facendo proprio delle regolazioni super accurate ovviamente il pacchetto Pro e il pacchetto Premium è rivolto sicuramente a quei fotografi che fanno fotografia macro sia di insetti che di piante dove ovviamente il livello di precisione richiesto è enorme, molto elevato per un utilizzo in fotografia di paesaggio la versione Lite è più che sufficiente anche perché come potete vedere si integra tranquillamente all'interno di Lightroom e io infatti l'ho introdotto all'interno del mio flusso di lavoro ora vi faccio vedere come funziona io ho già preparato all'interno di Lightroom le tre fotografie che voglio unire tra di loro queste e altre cose sono già il risultato di un processo di HDR quindi ogni singola foto è l'unione di tre fotografie in HDR ora procediamo invece alla fusione tra di loro tramite la tecnica del focus stacking tramite Helicon Focus per fare questo basta selezionare le tre fotografie facendo il tasto destro in esporta come potete vedere c'è già la voce Helicon Focus basta cliccare sulla voce relativa il programma si apre come plugin di Lightroom per quanto riguarda l'utilizzo diciamo all'interno della fotografia di paesaggio il software in questo momento non richiede particolari settaggi io al momento lo utilizzo con i settaggi base l'unica cosa su cui dovete andare eventualmente ad agire in funzione della tipologia di fotografie che avete di fronte sono i tre metodi di rendering che trovate nella parte in basso a destra come vedete c'è il metodo A, il metodo B e il metodo C se voi lasciate il mouse sopra la voce compare un piccolo pop up che vi indica questo metodo cosa comporta in questo caso c'è scritto perfetta scusate scomparsa perfetta per oggetti che si intersecano e serie di numerose immagini in questo caso poi vedremo anche comunque le altre soluzioni ritengo che sia la soluzione ideale l'ho già provata quindi vi posso assicurare che questa è la soluzione ideale perché come vi dicevo in questo caso abbiamo alberi rami di alberi che si intersecano e comunque la scena non è molto lineare perché comunque ci sono oggetti che spuntano dalla neve e quindi questo risulterà il metodo ottimale gli altri due metodi come vi dico ideale per superfici continue ma questo non è il nostro caso il metodo A produce transizione regolare e mantiene i colori possiamo fare una prova giusto per vedere allora iniziamo con il metodo A io ho sempre lasciato al momento le impostazioni che vengono date lasciate di base clicchiamo su crea il software in automatico genera il focus stacking in funzione con questi parametri e lo ritrovate nella parte bassa a sinistra poi se io procedo con il metodo B crea però ad esempio in questo caso guardate qua in alto cosa ha prodotto con le nuvole come potete vedere questo sicuramente non è una foto che possa essere utilizzata in questo caso il metodo B non è il metodo di diffusione adatto per le nostre immagini proviamo con il metodo C crea come questo vedete che in questo caso crea automaticamente delle maschere di livello e abbia in maniera perfetta sovrapposto i tre scatti e se noi andiamo ad ingandire come potete vedere adesso qui per spostarci devo zoomare in maniera più corretta come potete vedere l'immagine è perfettamente a fuoco qua in basso e se io dezoomo e andiamo ad esempio qua in alto io sto semplicemente spostando il mouse e zoomando con la rotella come potete vedere mentre a sinistra l'immagine è fuori fuoco perché è stata presa la terza immagine in questo caso vedete che il software ha per questa porzione di immagine utilizzato la prima immagine e non la terza che risulterebbe essere invece completamente fuori fuoco se io zoomo qua in primo piano in questo caso vedete che l'immagine è a fuoco perché zoomando invece a bordo vedete che in questo caso con la prima foto l'immagine non è a fuoco il software avrà preso la seconda immagine quindi e anche in termini di artefatti con il metodo C di problemi non ne ho riscontrati come potete vedere l'immagine è completamente a fuoco e abbiamo ottenuto un processo di focus stacking perfetto in pochissimi secondi a questo punto io rigetto i due risultati a e b perché non mi piacciono quindi basta selezionare il primo rimuove il risultato confermare il progetto B rimuove il risultato perché non mi piace tengo il progetto C a questo punto si fa con salva si fa salva diamo il nome dell'immagine che più preferite mettiamo ad esempio prova questo verrà caricato all'interno del cartello dove voi avete le vostre fotografie di Lightroom basta fare salva il software vi dice che per poter importare l'immagine all'interno del catalogo di Lightroom bisogna chiudere il software quindi facciamo ok esci e come potete vedere vi troverete accanto alle vostre tre immagini iniziali anche l'immagine con il fuoco stacca completamente fatto ovviamente questo come vi ho detto sono partito da tre immagini frutto di HDR ma su cui non è stata fatta al momento alcuna opzione di fotoritoppo se non quella di correzione del profilo colore della fotocamera all'applicazione della correzione della lente e delle aberrazioni cromatiche ma per il resto la foto non è stata assolutamente toccata e abbiamo ottenuto in poco tempo adesso vi ci ho impiegato un po' di tempo perché ho dovuto spiegarvi come funziona ma con pochi clic avete ottenuto una perfetta foto una perfetta foto con la tecnica del photostacking senza particolari problemi spero che anche questo video tutorial vi abbia interessato mi sia piaciuto in tal caso ovviamente vi invito sempre a lasciare un commento e un mi piace al video e ci sentiamo nella prossima video guida ciao